Due motori elettrici, tanta tecnologia e sicurezza al top. Sarà con queste caratteristiche che la nuova Volvo XC40 Recharge si presenterà sul mercato italiano. Ecco i suoi 10 segreti. La presa di ricarica al posto del serbatoio è l'unico dettaglio a distinguere la Recharge dalla Volvo XC40 classica. Il resto non cambia. Dimensioni compatte, frontale e imponente e il classico giro del fanale come marchio di fabbrica. L'interno della XC40 è un vero e proprio salotto tecnologico, ma gli strumenti tech non privano di spazio l'abitacolo, abbastanza grande da consentire anche la presenza di un piccolo vano sotto al cofano. Cuore pulsante della nuova Volvo XC40 Recharge sono i due motori elettrici, uno posizionato davanti, l'altro dietro. Per una velocità di 180 km l'ora è un'accelerazione da 0 a 100 in appena 4,9 secondi. Un'auto da città che non disdegna le gite fuori porta. L'autonomia del motore elettrico raggiunge i 400 km nel ciclo WLTP. Con una colonnina fast charge a 150 kW alla XC40 bastano appena 40 minuti per rifornire l'80% della batteria. Il sistema di infotainment è in grado di ottenere aggiornamenti costanti e wireless, in pratica con il passare del tempo la Volvo si aggiorna da sola, mentre il driver durante la guida può accedere a Google Maps, Play e Assistant. Rivoluzionaria ma pur sempre una Volvo, la priorità della XC40 è la sicurezza, lo dimostrano i materiali costruttivi robusti e le batterie protette da una guaina in alluminio. L'emergenza non ha modificato la strategia Volvo. Puntiamo a portare la quota delle vendite di auto elettriche al 50% del totale entro la fine del 2025, ha dichiarato la casa. L'elettrica svedese partirà da un prezzo di 59.600 euro e sarà disponibile anche con l'innovativa formula che è Air by Volvo. In Italia le colonnine di ricarica sono ancora poche, ecco perché Volvo opterà per un lancio graduale. La nuova XC40 Recharge arriverà nel nostro paese tra la fine del 2020 e le prime settimane del 2021.